Sarà svolta nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo del boscaiolo che ha perso la vita a mercoledì pomeriggio in un terribile incidente sul lavoro schiacciato da un albero. Una tragedia che ha scosso profondamente l'intero casentino. L'uomo, 47enne di origini rumene, lavorava da tempo per una ditta specializzata nella commercializzazione del legname e manutenzione delle aree boschive. Viveva con la sua famiglia nel comune di Prato Vecchio Stia ed era padre di una bambina di 12 anni. Mercoledì pomeriggio, attorno alle 14.30, si trovava assieme ai colleghi in località Fosso della Stricciolo, all'interno delle foreste casentinesi, vicino al passo della Calla. Improvvisamente uno dei grossi alberi sui quali stava intervenendo gli è crollato addosso, travolgendolo ed uccidendolo sul colpo. A lanciare l'allarme i colleghi e il titolare della ditta dove lavorava, inutili tentativi di soccorso dei sanitari del 118 che hanno potuto unicamente costatare il decesso. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri, il soccorso alpino, i vigili del fuoco di Bibiene e quelli del distaccamento di Prato Vecchio, che hanno estratto il corpo dell'uomo da sotto l'albero per affidarlo alle cure dei sanitari. L'area dove si è consumata la tragedia adesso è stata posta sotto sequestro. I militari stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. È stata infine aperta un'inchiesta coordinata dal PM Roberto Rossi, un atto dovuto al momento senza indagati.